Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti al vostro oracolo angelico giornaliero, andiamo a vedere oggi l'energia del giorno e andiamo a vedere, ecco la prima che è scappata, e andiamo a vedere, oh mamma no, troppo, le carte sono un po' movimentate, tra l'altro questa è uscita in orizzontale e noi la lasceremo in orizzontale. Intanto io vi ricordo che per avere una sessione privata vi basta inviare un'e-mail o andare sul sito internet e fare un po' tutto da soli, ma vediamo un po' che cosa ci dicono le nostre carte di oggi, vediamo un po' che cosa, ok, ne sono cadute due, una è caduta a terra e una altra è caduta a terra, ok, eccole qui. Dunque abbiamo un 9 di spade orizzontale, un 6 di coppe e una regina di bastoni, che carte, cioè quando io vedo i 6 di coppe mi metto le mani nei capelli perché vedo il passato, vedo il passato che può essere di questa vita o di un'altra vita. Il passato, i miei studenti lo sanno, per me il 6 di coppe è la carta delle anime gemelle, e cioè di tutte quelle anime che, ragazzi, non parlo della fiamma gemella, parlo delle anime gemelle, e questo proprio nel corso di psicologia karmica ed energetica è spiegato alla perfezione, non avete più scuse come dico sempre, adesso avete tutto in un unico corso se vi interessa questo argomento, anime e fiamme gemelle. Il 6 di coppe per me rappresenta o qualcosa, o la nostalgia del passato, o il passato che si avvicina, che si riavvicina, oppure qualcosa che fa parte delle nostre vite passate che in qualche modo interferisce con la nostra vita presente, quindi una persona magari, oppure un nodo karmico o una determinata situazione. La sensazione che ho è che per qualcuno di noi si tratti della regina di bastoni, cioè si tratta di una persona che per noi ha sempre un fascino particolare, per noi ha sempre quel qualcosa di più che si fa guardare, si fa guardare, ma al di là del fatto che sia oggettivamente una persona bella e attraente, sa come farsi guardare, perché ha un fascino, perché ha, come direbbero i francesi, un sour fare, ha quel modo di fare, quell'atteggiamento, quello sguardo, quel modo di camminare, che magari non piace a tutti ma piace a noi e ha un particolare, noi abbiamo un particolarissimo debole per questa persona, che con il 6 di coppe è un debole vecchio, è un qualcosa di antico, è un qualcosa che da tempo ci turba. Ora, il motivo per cui questa cosa stia arrivando oggi o nei giorni attorno ad oggi, ovviamente perché? Perché se c'è un 6 di coppe nel mezzo, che è una carta karmica, parlo bene delle carte karmiche nel primo livello ragazzi, andate a riprendere quella lezione, quando c'è di mezzo questa è perché doveva venirci la nostalgia o dovevamo rincontrare una persona, dovevano arrivarci nella mente i pensieri di questa o su questa persona, perché era programmato, quando ci sono lame karmiche ragazzi è tutto programmato, non si scappa e sono cose che abbiamo stabilito da tempo, proprio per capire bene la nostra situazione. Il 9 di spade rovesciato che io ho tralasciato, perché non è rovesciato, è orizzontale quindi ha sempre un significato un po' ambiguo, per me rappresenta quel tipo di pensieri che tempo fa ci ossessionavano, ma in questa stesa, non in generale, in questa stesa e in questa situazione specifica. Pensieri che tempo fa ci ossessionavano e che adesso ogni tanto ci ritornano alla mente e fanno ancora un po' di baruffa con i nostri attuali pensieri del momento presente, ma non hanno più la forza, non hanno più l'intensità e l'energia che avevano nel passato, quindi ecco che comunque sì, stiamo rivivendo qualcosa di vecchio, di antico, che ha sempre una sua forza dentro di noi, manifesta sempre un certo potere, ma non più come prima. È ovvio che con il tempo le cose si sbiadiscono, perdono di intensità, noi cambiamo, cresciamo, ci evolviamo, andiamo avanti con la vita, conosciamo persone diverse, però qualcosa rimane sempre, ci sono quelle situazioni che rimangono sempre nel cuore, che rimangono sempre in un angolino del nostro cuore e non vanno mai via, non vanno mai via, non andranno mai via. Probabilmente sono cose che ci portiamo dietro dall'infanzia, dall'adolescenza o magari sono cose che magari ci portiamo dietro appunto da vite precedenti e quindi quando interagiscono con noi è proprio un'esplosione di emozioni, ma vediamo quindi qual è a questo punto il consiglio degli angeli per gestire nel modo migliore questa energia, questo passato che si rifà vivo nella nostra giornata o nei giorni attorno ad oggi. Ah ragazzi, un'altra cosa, un'altra possibilità per esempio che spiega queste due carte, potremmo noi, anziché pensare ad una persona, potremmo noi ricevere i pensieri di una persona, perché, questo però lo spiego nel corso di Magia d'Amore e Telepsichia, i pensieri degli altri ci arrivano quando una persona sta pensando a noi e insieme al pensiero c'è anche un'emozione coinvolta, il pensiero essendo come un'entità è proprio un'entità viva, si chiamano forme pensiero nel mondo esoterico, questa forma pensiero che contiene l'immagine di una persona più l'emozione che noi proviamo verso questa persona è magneticamente attratta verso questa persona, quindi se qualcuno pensa a noi con un'emozione, questo pensiero di questa persona ci raggiunge ed ecco che all'improvviso ci viene in mente questa persona, tipo come mai sto pensando a questa persona dal nulla, chiaro sto pensando a questa persona dal nulla perché questa persona sta pensando a me e ho ricevuto il pensiero, ma ripeto questo è un tema che affronto molto 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 approfonditamente nel videocorso di Magia d'Amore e i segreti della Telepsichia, perché lì vi spiego come usare questo, come usare i pensieri a vostro vantaggio per ottenere degli effetti sugli altri, ma ecco la nostra carta angelica abbiamo un 6 di fuoco, un 6 di fuoco, notizie in arrivo, riconoscimenti, wow, wow e ragazzi questa è una carta che parla di vittoria, che può arrivare oggi o nei giorni attorno ad oggi o comunque che in qualche modo è nell'aria, parla di buone notizie in arrivo che potrebbero appunto essere appena arrivate oppure arrivare in questi giorni e addirittura di riconoscimenti, come se finalmente qualcosa che stavamo aspettando, un riconoscimento da qualcuno che stavamo aspettando arriva o sta per arrivare, ed ecco che in questo caso siamo noi la regina di bastoni, forti e sicuri di noi, bello, 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 proprio belle carte, bene ragazzi per il resto noi ci vediamo domani e io vi invito ad andare sul sito internet oppure ad inviarci un'email che ti vediamo domani